Don't be scared E bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Billy Oggi siamo qui in un primo episodio di una serie su Minecraft con Giovanni Ebbene si Allora questa invece delle altre serie che erano un po' fatte a caso Questa sarà una serie fatta bene Due episodi a settimana di questa serie Non so bene proprio come chiamarla Però comunque dopo decideremo io e Giovanni Allora inizio dicendo che la serie durerà più o meno 15 minuti episodio Visto che abbiamo anche cose da fare E perché comunque almeno non vi annoiate troppo Perché non è che un episodio può durare troppo Quindi O no Giovanni Parla anche te Non mi lasciare parlare solo a me E basta Giovanni Non mi Tu rompi altri alberi Non stare a guardare me Allora Iniziamo innanzitutto col prendere il legno Io faccio una crafting table La faccio io L'ho piazzata qui Però decidiamo un luogo dove decidiamo lavorare Vabbè Due casse fatte Per adesso qui c'è un luogo piccolino Dove Mi faccio dei bastoni E faccio il piccone Perché se ti ricordi Giovanni Nel mio canale era uscita Era uscito Le dieci cose Sì Più importanti da fare all'inizio E tra queste ovviamente c'era fare il piccone Prendere il legno Quindi il piccone di legno l'ho fatto Tutti gli altri attrezzi li farò in pietra Perché l'importante Di solito in questi casi È Il piccone Diciamo Casomai il contrario Il piccone in pietra Agli altri di legno No no Nel senso che La cosa più importante da usare come attrezzo È Il piccone Sei andato te di sotto Io ho trovato un'empreo Sì ho trovato un'empreo Io sto cercando del ciotolo Lo prendo anche per te Allora Vai Si sta già facendo un'ottima mia impressione È andato un'impressione Ok no forse perché io sono andato in miniera Va bene E raga comunque Scrivetemi come sempre Come va a voi la scuola Se Andate bene o no Se come vi stanno i professori Se vi stanno sui cosiddetti Oppure se vi stanno simpatici E tutte le altre cose In più lasciate like se la serie vi piace Se volete che la continuiamo E scriveteci un parere Su come ci comportiamo Diciamo Nei vari episodi Poi Scriveteci dei titoli Cioè dei titoli da mettere per il video Perché Noi li scegliamo Ma poi se a voi non vi piace O ne volete un altro Che ben venga Giusto Giovanni E se sono stato un po' assente nel canale È più per un fatto Non che non ne avevo voglia o altre cose Ma perché comunque Sapete che ognuno ha una vita Ognuno ha delle cose che magari vanno male Delle cose che vanno bene E diciamo che in questi giorni sono un po' incasinato io Quindi non vi preoccupate I video arrivano Come vi ho detto Devo comprare il computer a Natale Quindi Magari non porto tante cose adesso Ma poi Quando sarà Natale Dopo arriveranno tanti nuovi video Scoprirò tante nuove cose Avrò la webcam Tutto Se mi volete dare dei consigli Sul computer O su altre cose Ditemeli Eh? No C'è lì Ti ho visto Ti ho visto Insomma Queste cose qui Ditemele perché Sono sempre Bene Accetti Di consigli Vieni Giovanni Ti do la roba Ok Io intanto Adesso fare Dai Te l'ho buttato lì Ah io Non è un po' di Ti tristro Che ti faccio una zappa No Ma tieni Guarda È lì intanto Della roba E la zappa Comunque non la facciamo In pietra Perché tanto La zappa a fosigare Quindi Pigliatela In legno Tieni Dove sei andato? Io vado a cercare Del ferro Così facciamo un secco No ma ti ho fatto La zappa Vieni Così aspera La prendo dopo Non ti preoccupare Così facciamo Un po' di grano Sì però io non credo Tieni No Ma non l'hai presa Tu non credi che? Eh no Cioè no ti volevo solo dire Che non credo Che l'acqua La troverai nelle grotte No no Era un po' di cercare Il ferro Per fare i secchi Capito Sì 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 Era per fare un po' Di ironia Comunque Parla anche un po' Te Giovanni Sì sì Intrattieni il pubblico Racconta un po' Che cosa succede Nella nostra Avventura Cosa stai cercando Te Giovanni Io invece Sto prendendo il legno Perché comunque Io di solito Mi faccio una cassa E in quella cassa Ci metto tipo La cassa La riempio di stacca di legno Di solito questo Che faccio io Poi Non so gli altri Però io faccio così Quindi Allora io direi Che la casa Se ti va La facciamo Proprio in questa pianura Qui Perché mi piace davvero Sì sì È molto molto carino Sì sì Magari con Adesso faccio una pala Faccio una pala Con il pietrisco E distruggo un po' Tutta sta merda Se riusciamo a trovarli Oggi Così faccio di direzioni Che faccio la ponte Sì magari se vuoi Intanto faccio la casa Perché di solito In tutte le serie Sono io che faccio la casa Non so più Tu fai la casa Io invece faccio quello Che fa un po' Il lavoro più sporco Diciamo Vai Sporcati le tue mani Da vagabundo Questo robo qui Lo chiudo Cioè anzi Prendo un attimo Un po' di pietra Di ciotole E poi lo chiudo Perché Intanto non ci serve più Così almeno Ci faccio Sopra la casa O intanto che vai Anche se tipo Con il piccone di ciotolo Prendi il ciotolo Capito Perché serve sempre Per adesso Che abbiamo iniziato Prendilo Non troverò Non troverò mai Del ferro E' così Per rumore Per rumore e ho molta paura perchè non abbiamo le torte tre pezzettini di legno c'è di di un comodo ciottolo no di ferro scusa io intanto faccio la carbonella e ti ho dato tre pezzettini di ciottolo la casa va bene si si la facciamo di legno questo qui vai allora di quanto quanto lo facciamo la casa grande piccola come la vuoi allora facciamo o vai allora ma è la luce della farmacia mi toccavo la casa allora uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici poi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci vabbè 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 le hai fatte le torce quattro cinque l'unico l'unico problemino è il ferro questo dovrebbe essere casa più o meno teoricamente e ospitali a me piacciono le casette piccole piccole dove c'è il tuo spazio almeno io la penso così a me piacciono le casette piccole e ben forte quello quello dove ho messo le porte dovrebbe essere la metà forse mi sono sbagliato di un blocco forse si uno due quattro uno due tre quattro cinque sei uno due tre quattro cinque si è fatto un blocco in più no allora ho sbagliato lascia stare fanno questo più largo di uno qui eh infatti rompi te con la mia ascia tieni rompi trovo la mia ascia rompi te e gli altri blocchi dentro lo dovremmo allargare anche dopo in grandezza allora di uno però si si ora basta che abbiamo almeno un riparo mi servirebbe sempre non ci possiamo spawnare però mi servirebbe sempre la tua accetta no dai oh fa l'accetta cioè con l'accetta li li sotto li sotto te l'ho lasciata vabbè no ma ne faccio un'altra tieni capisco tienitela allora c'è un lupo c'è un lupo c'è un lupo se ti tiro un pugnetto secondo te cos'è simmetrica non mi sembra fatto si dovrebbe fammi vedere fammi vedere se c'è un blocco in mezzo questo qui dovrebbe essere blocco centrale sembrerebbe di sì 15 si perchè si controlla controlla non non c'è uno scheletro brutto non c'è uno scheletro non abbiamo la spada c'è uno scheletro che ti puntano c'è uno scheletro che ti puntata aia no punto tome fantastico vabbè vabbè abdullà vabbè si spara mi coglione si ma chi fai paura ma chi fai oh un arco bene c'è un lupetto allora stavo dicendo io vado in miniero quando ho cercato di fare di notte no si tu mi metti tanto le torce la facciata centrale è fatta tutto il resto no mi vado a procurare del legno io vedo una luce credo sia lava però c'è una luce comunque quasi sicuramente è lava no 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 è in lontananza c'è un ragno pezzo di merda ti ho sentito e c'ho le cuffie merdina ok no dai ho rimasto tre cuori mi hai fatto pigliare un colpo sentivo dei passi già ho sentito il ragno no allora pensavo fosse uno zombie cioè perchè all'inizio no quando te non l'hai visto lo zombie non fa rumore quindi pensavo fossero dei passi di uno zombie mi sono tipo girato no ieri te lol secondo te come sta andando giova bene ho trovato il carbone ottimo 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 il carbone c'è qualcosa in casa no no cosa niente niente lascia stare sento della lava qui ale o è sopra di me o è a fiancone quattro sta che la santo lol quindi allora appena troveremo il ferro c'è la porta dai ho quasi completato la casa però c'è un ragno ci sono due zombie un ragno e un creeper e il ragno mi sta uccidendo aspetta che arrivi il giorno che arrivi il giorno eh ma il ragno mi sta uccidendo intanto che aspetta che arrivi il giorno ok no è morto il ragno però lo zombie no è ancora lì e mi guarda dalla porta chi c'è qui? non c'è nessuno dove è andato? qua dov'è? lo sento ma non lo... ah eccolo è morto è morto oddio ho comunque questa casa ferro ferro si può prenderlo ho con i di pietra giusto si con il piccone di pietra si ascolta o comunque dirò un detto solo perchè mi va no? dico un detto solo perchè mi va la nostra casa no? trova cioè come si dice hai il tempo che trova credo se è così il detto so prima o poi cambiare una boh so solo che ho un detto molto molto interessante sai io certe volte no allora sono lì in classe da me e tipo c'è una mia compagna e mi dice ciao e gli dico tipo non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace per dire un detto no no aspetta giova ora che sei in superficie vieni 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 ma poi c'è un attimo il fatto aspetta aspetta quanti pezzettini di farlo ho trovato? 10 grande sono contentissimo ragazzi ma con questo visuale vi dico che per questo episodio è tutto noi ci rivediamo nel prossimo episodio ci siamo diciamo divertiti abbiamo fatto la casa è tutto più o meno la casa da da me Giovanni è tutto ci rivediamo nel secondo episodio saluta anche te Giovanni ciao se viva passato dal mio canale comunque si che comunque bella rega vieni god come vieni vieni da vieni 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 Grazie a tutti.